allora in questo caso abbiamo due soluzioni una di acido acetico che è un acido debole ed una di acido clodidico che è un acido forte entrambe possiedono ph 3 dobbiamo calcolare il ph delle due soluzioni dopo che saranno diluite 1 a 10 quindi partiamo da due soluzioni che hanno lo stesso ph le diluiamo nello stesso modo e che cosa ci aspettiamo che avranno lo stesso ph anche dopo la diluizione vediamo per quanto riguarda il caso dell'acido clodidico la situazione è facile da calcolare perché se il ph 3 significa che la concentrazione degli ioni idrogeno e degli ioni cloruro è 10 alla meno 3 in quanto l'acido clodidico si ionizza formando questi ioni in quantità 1 a 1 ma questo vale anche per l'acido acetico perché anche una molecola di acido acetico quando si ionizza produce un numero uguale di ioni idrogeno e di ioni acetato e quindi se il ph 10 alla meno 3 allora la concentrazione degli ioni idrogeno e acetato deve essere uguale a 10 alla meno 3 però ci sono differenze tra i due acidi prima di ionizzarsi l'acido clodidico era hcl e una volta ionizzato mettiamo una singola freccia che sta a significare che si ionizza completamente quindi se abbiamo adesso 10 alla meno 3 ioni molare come concentrazione degli ioni idrogeno vuol dire che prima di ionizzarsi l'acido clodidico era 10 alla meno 3 molare e la stessa cosa vale per l'acido acetico che sarà 10 alla meno 3 genererà questi ioni 10 alla meno 3 molare di acetato e idrogeno ma non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda l'acido acetico iniziale che rimane quasi invariato perché si ionizza solo in minima parte quindi abbiamo una concentrazione di acido acetico che non può essere del tutto non può essere andata a zero come nel caso dell'hcl quindi se noi diluiamo l'acido clodidico dopo la diluizione 10 volte tutte le concentrazioni diventeranno 10 volte più piccole e quindi queste concentrazioni passeranno a 10 alla meno 4 e possiamo essere certi che l'acido clodidico diventerà a ph4 mentre per l'acido acetico dobbiamo fare una considerazione diversa abbiamo una costante di equilibrio secondo cui il prodotto delle concentrazioni H+, gli ioni idrogeno per gli ioni acetato deve essere costante allora possiamo osservare che mentre nel caso dell'acido clodidico la concentrazione 10 alla meno 3 diluendo 10 volte ovviamente era diventata 10 alla meno 4 quindi era diminuita di 10 volte in questo caso invece la concentrazione non è diminuita di 10 volte cioè non è diventata 10 alla meno 4 ma è diventata 3,16 per 10 alla meno 4 il che significa che è diminuita soltanto di 3,16 volte e non di 10 volte come nel caso dell'acido clodidico perché è successo questo perché con la diluizione una parte degli ioni idrogeno dopo essere diminuiti di 10 volte un po' sono stati rintegrati perché l'equilibrio ha risposto spostandosi verso la rigenerazione di nuovi ioni idrogeno in modo da ripristinare il valore della costante andiamo a calcolare il ph facendo il meno logaritmo di questa nuova concentrazione dopo diluizione e sarà compreso tra 3 e 4 ovviamente la soluzione risulterà leggermente più acida di quella dell'acido forte e questo è abbastanza apparentemente paradossale infatti il ph è 3,5 quindi se noi partiamo da due soluzioni di un acido forte e di un acido debole che hanno la stessa concentrazione diluendole uguali quella che rimarrà più acida sarà quella dell'acido più debole alla faccia della debolezza per questo dobbiamo ringraziare la riserva di acidità che l'acido debole ha in quanto pur essendo debole per avere lo stesso ph deve essere molto più concentrato di quello forte infatti l'acido acetico era dell'ordine di 10 alla meno 2 molare contro quello acetico contro quello cloridrico che invece era 10 alla meno 3 molare prima di essere diluito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.